Buongiorno, sono Fabio Concezzi, amministratore di Intermax Sistemi. Siamo qua a Smart Building Expo, direi finalmente dopo molti mesi in cui non si sono fatti eventi dal vivo. Abbiamo qua, tra le tante aziende da noi distribuite in Italia, principalmente tre brand, tre soluzioni. ProDVX, GoBright e Televick. Buongiorno, sono Carlo Novelli, responsabile marketing di Intermax Sistemi. GoBright, ProDVX e Televick rappresentano tre punti essenziali nella gestione degli spazi di lavoro. GoBright realizza una piattaforma cloud per poter prenotare le sale, le riunioni, i desk e gestire l'ingresso dei visitatori in azienda. ProDVX invece fornisce una serie completa di display con sistemi operativi a bordo che possono essere utilizzati come fuori porta o come unità di controllo della sala, oltre che per digital sign, informativi e per molti altri applicativi. Per quanto riguarda Televick, entriamo specificamente nel mondo delle sale conferenza, dove la microfonia è oggi l'elemento fondamentale sia per le presentazioni interne sia per il mondo della conferenza. Quindi quando dobbiamo parlare in remoto è garantirci un ascoltato di massimo livello. Di Televick in particolare presentiamo anche l'unità multimediale che è sviluppata anche con l'estensione ConferoMeet che permette oltre alla discussione in remoto anche l'intervento dei partecipanti in remoto in votazione. Quindi ci presentiamo sicuramente ai massimi livelli come sempre e il pubblico ha dimostrato sicuramente un fortissimo interesse sulle nostre soluzioni. Inoltre qui in Fiega abbiamo una novità per l'azienda che è la presentazione in anteprima del LEDWALL Only One di Maxab. Maxab è un'azienda che produce dai 120 pollici ai 220 una gamma di LEDWALL decisamente innovativa, molto semplice, sostanzialmente sono dei grandi display con già a bordo gli ingressi HDMI e addirittura una soundbar già inclusa e quindi lo abbiamo qua presentato in anteprima. Vorrei sottolineare che dopo un periodo complicato che abbiamo vissuto e che stiamo forse ancora vivendo, poter partecipare a una fiera in presenza con così tanti visitatori qua a Milano è un motivo di spinta e di ripartenza per noi tutti come azienda ma soprattutto come settore, quindi siamo decisamente soddisfatti di quanto sta avvenendo in questi tre giorni.